Ciao a tutti, ecco qui per un altro video, un video vlogmas giorno 15. Dovrei essere più costante a farvi i vlogmas, solo che tra il lavoro della mattina e il lavoro della sera me ne trovo che durante uno spazio di tempo, un po' di cioppini da fare, i vlogmas passano letteralmente in secondo piano. Ci sono delle novità in quanto mi hanno rinnovato per un altro mese il lavoro della polizia, quello della mattina. Devo aspettare venerdì o al più tardi lunedì se mi rinnovano anche quello della sera. Non ne ho idea, incrociamo le dita perché mi farebbe comodo. E' arrivato il pacco di Shin che vi farò un video try on haul dopo Natale, così mi arrivano diversi pacchi e giro diversi video. Per Natale non ho la tua idea cosa combinerò ma penso che rimarrò a casa. Non ne ho idea col fatto che tra lavoro e una cosa o un'altra lavorerò la vigilia il 31 di dicembre. Quindi non ho più pari d'idea cosa succeda con questa idea. Allora, partiamo con l'apertura del calendario del momento. Ma anche il giorno 14 che non avevo aperto. Apriamo così lo pubblico direttamente domani il video. 14 ho trovato gli orsetti. Apriamo anche il 15 perché ho trovato... Già, non ho altro pari d'idea. Ma penso che siano gommina o caramella alla coca cola, quali dà idea. Poi ve lo faccio, ve lo saprò dire. E nel 16 ho... Ranocchia, sto facendo l'albero di Natale che poi vi farò vedere nel vlogmas 17 se riesco. Ma anche vada vi metto come copertina... Ma no, nel 17 perché lo sto finendo adesso. Abbiamo il calendario del vento della Kinder. Andiamo dalla 14 se riesco a prenderlo. Ho trovato un ovetto. Un ovetto. Nel 15... Ho trovato un ovetto. Ho trovato un ovetto. Quindi ho trovato un ovetto. E nel 16, questo che è piccolino, ho un altro ovetto. Allora, poi, poi, poi... Kinder Happy Moments, mini XL 14. Ho trovato... Kinder Bueno Mini al white. Allora, penso che per il 30, se non vado errato, vado a vedere qualcosa in centro. Il 15 ho trovato... Un altro, Kinder Bueno, quello mini. Ho trovato il Kinder Bueno white. Quello mini, buonissimo. A me non mi piace, però preferisco quello normale. Quello white. Nel 16 ho trovato... La... Barretta normale. Per adesso è tutto. Ci vediamo il 17. Perché pubblicherò questo... Il vlog... Vlogmas 15. Domani. Ciao. 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 Ciao.